Allora, eccoci qua, buongiorno a tutti, io sono Francesca Fedeli della Fondazione Fed Stroke, oggi è il 14 giugno 2024 e siamo alla 38esima puntata di questo canale Fed Virus che accoglie degli esperti di settore, in questo caso oggi un medico, abbiamo con noi Carlo Efisio Marras, corretto il nome? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo, allora prima regola, patto d'aula, ci diamo del tu in questa conversazione oggi che durerà un'ora circa e io farei fare un'introduzione a te Carlo, quindi ci racconti un po' qual è il tuo profilo, la tua formazione e di che cosa sei responsabile oggi, così poi entriamo subito nel cuore dell'argomento. Sì, buongiorno a tutti, ciao Francesca, io sono, come appunto Francesca diceva, Carlo Efisio Marras, sono da punto di vista professionale un neurochirurgo, coordino l'unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e ho lavorato prima di arrivare qui a Roma, a Milano, presso l'istituto neurologico Carlo Besta, dove ho avuto modo di incontrare sia pazienti adulti che pediatrici. Il mio campo di competenza riguarda tutta una serie di aspetti della pediatria, ma soprattutto in relazione a questo incontro sottolineo la mia competenza nella chirurgia dell'epilessia. A tal proposito per circa otto anni ho coordinato la commissione chirurgia della Lega Italiana contro l'epilessia e ho un background piuttosto importante riguardo alla chirurgia dei disordini del movimento, quindi a tutte quelle condizioni che possono portare a un'indicazione chirurgica. Quindi è questo il motivo per cui Francesca mi ha invitato, ho un'esperienza nel campo di tutte quelle condizioni che riguardano appunto fight stroke, quindi ragazzi o bambini e quindi famiglie che si trovano davanti a questa importante esperienza dove in relazione ad un evento inatteso compaiono tutta una serie di problematiche che sono appunto l'epilessia, i disordini del movimento, la spasticità per dire le più importanti, con quindi tutta una serie di conseguenze. Quindi la mia posizione di medico non arriva a coprire tutta quella che è l'esperienza ed è per questo motivo che negli anni ho imparato a lavorare in gruppo e all'interno dei cosiddetti gruppi multidisciplinari. Io sono un papà, ho una ragazza, Giulia di 17 anni e quindi insomma anch'io vivo come voi e ho vissuto tutti i passaggi. La prospettiva genitoriale. La prospettiva del futuro, la prospettiva del presente e dell'esperienza vissuta per vivere meglio il presente e il futuro. Quindi sono molto contento di partecipare a questo incontro e di rispondere alle domande. Ti ringraziamo per questa introduzione perché hai toccato un po' i temi che appunto riguardano e interessano moltissimo le nostre famiglie su cui forse c'è meno divulgazione rispetto ad altri temi che invece sono più facili da trattare. Penso al tema della riabilitazione pediatrica o ai disturbi del movimento in generale. Però tutte le volte che poi si fa un affondo su una tematica importante come quella chirurgica, abbiamo fatto anche degli approfondimenti in passato con dei chirurghi ortopedici, mi rendo conto che la prospettiva del genitore e io stessa in prima persona è un po' una prospettiva di chiusura. La chirurgia sembra una strada o l'ultima da percorrere o comunque una strada da cui poi non si torna indietro. Quindi la prima domanda per te Carlo è un po' che cosa ti ha portato a scegliere questa specializzazione di neurochirurgia e qual è un po' la filosofia che è dietro il clinico, chi dà delle terapie, chi dà dei farmaci, invece chi decide di operare e quindi di risolvere il problema magari in una maniera un po' più drastica direi. Però lascio a te questa parte più filosofica, etica. Sì, no, e vabbè, praticamente questo è il centro del nostro incontro. Ci sono delle situazioni che accadono nella mia vita frequentemente. Per esempio, io mi chiamo Carlo, ma molte persone, non ricordano i miei nome, mi chiamano Claudio o Marco. Cioè, anche a me mi chiamano Federica perché mettono insieme nome e cognome. Sì, sì. Un'altra domanda è perché ho scelto di fare il neurochirurgo. Come tutte le esperienze nella vita, si fa un'attività perché si incontra una persona che ti ha voluto bene, ti ha fatto conoscere il valore e il significato di questa professione, nel caso della scelta della professione. Per cui, il motivo per cui ho fatto il neurochirurgo è perché amavo già nel corso degli studi di medicina le neuroscienze. Sono sempre stato affascinato da questo. Ma la parte chirurgica è nata grazie a un incontro, una persona che proprio mi ha adottato. Quindi mi seguiva, mi spiegava le cose. Il strumento è stato. Esatto, mi ha trasmesso con amore profondo per il lavoro, anche per la stima, la simpatia che aveva per me questo tipo di lavoro. E quindi, naturalmente, pian piano ho intratto questa strada. Lo possiamo nominare, è una persona che c'è ancora? Sì, lui si chiama Mario Coraddu, io sono di Cagliari. Io ero il primario della neurochirurgia al tempo, un uomo molto introverso, ma molto sensibile. Probabilmente le due cose stanno insieme e questa sua capacità di trasmettermi, appunto la sua passione, si è in qualche modo realizzata. Penso che sia un gran piacere per chi fa questo lavoro, rendere questo lavoro speciale e bello per chi poi lo seguirà. Un po' come succede con i figli, ci sono delle cose che sono eterne grazie a questo passaggio. Io credo che spesso l'errore che i chirurghi commettono è quello di arrivare al finale, cioè al dunque, all'intervento. Credo che in una condizione emotiva in cui si trovano le famiglie davanti alla soluzione chirurgica, questa sia la soluzione meno felice, meno utile per condividere questo percorso. Quindi ho parlato di un incontro multidisciplinare e quindi le persone che gestiscono questa attività, il case manager, quello che ha diretto contatto con il bambino, la famiglia, deve comunque far conoscere questa figura, che forse un giorno sarà utile nel percorso terapeutico. Da voi succede così al Bambin Gesù? Cioè c'è un'equip per cui diciamo che nella front line non c'è immediatamente il chirurgo, ma c'è magari il neurologo? Sì, che ne parla? Naturalmente siamo naturalmente lontani da questo obiettivo, che sarebbe quello per me ideale, perché ci sono tutta una serie di problematiche. Anche le persone poi hanno, c'è anche una paura da parte delle famiglie di incontrare un chirurgo e quindi si cerca anche di, forse di, non dico di sfuggire, ma di evitare quel momento. L'aspetto che credo sia molto importante nella chirurgia e nella impostazione del percorso assistenziale al bambino, e insomma al paziente più in generale, è quello della struttura attraverso la quale la chirurgia opera, nel senso tecnico e del percorso. Cioè ci sono degli elementi molto precisi che devono essere eseguiti per conoscere molto bene il paziente. Quindi faccio l'esempio del percorso della chirurgia dell'epilessia. Il metodo è un metodo vincente, non è necessariamente chirurgico, ma prevede la definizione di tutte quelle caratteristiche che ci permettono di capire da dove provenga l'epilessia, quali sono le caratteristiche, quali sono le condizioni che possono poi permettere il trattamento, che non è necessariamente chirurgico, ma che rientra in questi. Per te è utile conoscere il paziente, quindi non sei soltanto il tecnico che opera in quel momento, ma per te è utile conoscere il presente in una fase preventiva e la famiglia, parlando nel caso specifico della chirurgia dell'epilessia. Naturalmente tutto l'aspetto qualitativo del percorso chirurgico, del sistema che offre un servizio, sono tutti elementi fondamentali, ma arrivando alla tua domanda e osservazione, tutte le cose fatte con amore, con la passione di incontrare quella persona e curare proprio quella persona, porta a un miglior risultato, per cui credo che sia indispensabile questo tipo di approccio per raggiungere il risultato atteso. I genitori, se il bambino è molto piccolo, si accorgono di questo, si rendono conto di questa relazione e di questo rapporto di fiducia. Spesso, e questo è una mia visione, nel momento in cui io dovesse affrontare un percorso chirurgico, mi affiderei sicuramente al più bravo, ma questo più bravo deve avere anche la capacità di seguirmi nel momento in cui compare e insorge un problema. Quindi una persona che c'è comunque al di là dell'ottimo risultato. Ma infatti hai detto una parola chiave, hai detto mi affiderei, quindi questo rapporto di fiducia che si deve instaurare, soprattutto quando c'è un caregiver di una persona più vulnerabile, quindi c'è qualcuno che addirittura prende decisioni sul futuro di un'altra persona. Quindi anche per noi questo elemento è fondamentale. Andando nello specifico sulla chirurgia dell'epilessia, che è il nostro primo capitolo, diciamo, di questa chiacchierata oggi, noi parliamo di bambini con paralisi cerebrale infantile, quindi bambini sui quali c'è stata una lesione al cervello alla nascita e spesso l'epilessia è una comorbidità, quindi qualcosa che emerge, diciamo, nel 40-50% dei casi. Quindi non è neanche una condizione così rara. Il percorso oggi di queste famiglie è la prima crisi, ok, vengo un po' preparato dal neuropsichiatra dal quale sono seguito, quindi so più o meno oggi come intervenire. Poi mi incanalo in questo settore, che è un settore più specialistico, in cui visito diversi epilettologi e poi a volte finisco invece direttamente dal neurochirurgo. Qual è secondo te, Carlo, il percorso più giusto? Quello che tu ti immagineresti come ideale per riuscire a capire effettivamente, a spiegare a una famiglia, se la strada della chirurgia dell'epilessia è una strada da valutare inizialmente come una delle varie opzioni, oppure se nel bambino con epilessia secondaria a un evento come quello dell'ictus o dello stroke è più raccomandabile forse prima un tentativo con la terapia farmacologica e poi un approfondimento di questa strada. Allora, un elemento molto importante davanti a una famiglia, una coppia che incontra per motivi di sofferenza per i Natale o perché in un bimbo prematuro c'è stato un evento emorragico cerebrale è quello di non creare un'atmosfera di tensione perché davanti a un evento di questo tipo la possibilità di prevedere una condizione sfavorevole non è percorribile, non è possibile. Per cui laddove noi ci trovassimo come medici davanti a un'osservazione di questo genere non è necessario, anche perché non sarebbe vero arrivare a una conclusione che il bambino avrà questo, questo e quest'altro perché ci sono tante variabilità a volte non prevedibili che non necessariamente si concretizzano in un evento. Però c'è una statistica qui possiamo parlare di probabilità quando parliamo con il paziente diciamo ho fatto X interventi No, no, ma io parto proprio dall'incontro del medico con una famiglia il cui piccolo ha manifestato uno stroke quindi il primo punto iniziando proprio dall'inizio è quando i genitori si rivolgono a uno specialista non necessariamente un chirurgo e naturalmente la domanda è quale sarà il nostro futuro perché davanti ad un evento del genere la domanda più pressante più costante quotidianamente in ogni momento è questa purtroppo non c'è una risposta in una situazione così precoce e quindi la possibilità di un sostegno medico e psicologico della famiglia naturalmente il setting familiare è fondamentale nel momento in cui arriviamo invece a una situazione dove il piccolo manifesta l'epilessia allora naturalmente ci sono tante situazioni diverse che hanno caratteristiche dell'epilessia diversa faccio un esempio sono bambini che hanno una sofferenza perinatale che porta a un coinvolgimento diffuso del parenchima cerebrale per cui entrambi gli emisferi hanno una sofferenza e quindi in questo caso ci troviamo spesso davanti a condizioni in cui l'epilessia non è focale cioè non interessa la specifica area cerebrale non è rimovibile diciamo che può essere considerata come una malattia dell'organo in questo caso la chirurgia non può fare tantissimo o ci sono altre situazioni in cui magari l'evento ictale lo stroke coinvolge un ramo di un'arteria e quindi in questo caso ci può essere una sofferenza di un'area del cervello in questo caso l'epilessia può essere coincide con quell'area cerebrale e quindi lì pur considerando l'ipotesi farmacologica il percorso farmacologico può essere anche inclusa la prospettiva chirurgica senz'altro la terapia medica è la prima da essere seguita cioè non esiste una situazione in cui il paziente fa subito l'intervento perlomeno non nelle condizioni di cui parliamo cioè di eventi ictali prevalentemente di tipo vascolare o ipossico-ischemico cioè condizioni in cui c'è un scarso afflusso di sangue a livello cerebrale che quindi risente negativamente quindi l'approccio terapeutico medico è fondamentale ed è necessario quindi si inizia sempre con questa terapia naturalmente l'indicazione al trattamento chirurgico se questo è percorribile sia quando due o più farmaci non somministrati al dosaggio adeguato per il tempo sufficientemente tempo adeguato non danno alcun effetto e questo è il caso di farmacoresistenza esattamente in questo caso quindi se c'è una prospettiva chirurgica questa viene proposta è vero anche che le tecniche chirurgiche la possibilità di raggiungere ottimi obiettivi con una bassa morbidità chirurgica trovano l'indicazione la chirurgia rispetto agli anni passati molto maggiore di quanto appunto non fosse prima per cui ci sono situazioni che non sono queste di cui stiamo parlando in cui la chirurgia può essere suggerita anche nei casi in cui non ci sia farmacoresistenza perché la prospettiva è quella di una guarigione senza terapia e quindi naturalmente questa opzione deve essere comunque tenuta in considerazione poi è toccato questo argomento che a me fa piacere approfondire perché appunto sei una persona che ha avuto un professionista che ha avuto un'esperienza lunga in questo settore qua e quindi hai visto anche l'evoluzione delle tecniche e l'evoluzione anche delle conoscenze in medicina probabilmente quello che vedevamo 50 anni fa attraverso la neuroradiologia è diverso da quello che riusciamo a vedere oggi quindi è possibile secondo te oggi andare a definire quelli che sono e restituire questo tipo di informazione ai genitori quelli che sono gli effetti certi o gli effetti probabili di un intervento come quello di cui abbiamo parlato quindi ad esempio di rimozione di un'area specifica nel caso di epilessia focale che mi sembra il caso un po' più frequente nei nostri bambini con paralisi cerebrale sì, allora purtroppo il numero di interventi complessivo sono state fatte delle survei sia dalla Lega Americana che da quella dall'Ilae Europa sul numero di pazienti sottoposti a chirurgia dell'epilessia il numero non è cambiato negli ultimi 40 anni ma proprio perché da parte cioè non è cambiata l'incidenza dei pazienti operati esattamente il numero non è granché modificato è strana questa cosa no? ma è vera purtroppo è così ci credo ci credo però dico mi fa strano perché cresce la conoscenza crescono le tecniche è un po' come il numero di molecole per curare l'epilessia anche lì non è che ci siamo spostati tanto perché comunque c'è una resistenza culturale soprattutto da parte dei medici che hanno comunque non conoscendo l'argomento non riescono a offrire per primi la possibilità di un percorso chirurgico pensa che nel mondo solo l'un per cento dei pazienti potenzialmente candidabili a un trattamento chirurgico vengono trattati solo l'un per cento forse anche meno è di fronte a una situazione dove l'epilessia è la terza malattia che causa diciamo che ha un forte impatto sociale in termini sia sociali che economici prima ci sono le patologie cardiovascolari e i tumori prima dell'epilessia ora in questa valutazione del numero dei pazienti complessivi trattati si è visto che il numero è uguale ma il numero delle procedure complesse è aumentato quindi questo elemento sottolinea anche la qualità attraverso cui dimmi cosa intendi per procedure complesse allora nel senso che in chirurgia dell'epilessia ci sono varie diciamo vari tipi di chirurgia naturalmente esiste la chirurgia resettiva e la chirurgia disconnettiva che ora ti spiegherò e poi la chirurgia palliativa ok nella chirurgia disconnettiva e resettiva l'obiettivo è quello di permette di offrire al paziente una libertà completa delle crisi quindi questa è la prospettiva con o senza farmaci invece nella chirurgia palliativa l'obiettivo è quello di ridurre il numero delle crisi o la loro intensità con lo scopo di migliorare la qualità di vita quindi nella palliativa non si ha una condizione di seizure free cioè di libertà completa dalle crisi allora stando sulla tua sulla tua domanda oggi abbiamo tutta una serie di elementi molto importanti che sono il neuroimaging che ci permette di vedere non sempre ma un certo numero sempre più alto di pazienti l'elemento che potrebbe causare le crisi che poi sta insieme a tutta una serie di valutazione neurofisiologica c'è quindi dell'attività elettrica cerebrale e la possibilità di tecniche invasive cioè tecniche che permettono di non su tutti i pazienti ma su quelli in cui la registrazione di superficie dove si applicano gli eterocutanei non ti dà la certezza della epilettogenesi cioè di come si sviluppano le crisi in quel paziente quindi il normale EG che io faccio con la pupetta che metto al bambino non mi dà quel livello di informazioni necessario per decidere di operare ci sono poi una serie di altre soluzioni che sono la identity cioè dove si posizionano più elettori vicini tra loro il monitoraggio in continuo nelle 24-48 ore che ti permette di valutare anche elementi che chiamiamo intercritici cioè che non si vedono non si apprezzano clinicamente ma che hanno possono avere un significato nella comprensione dell'epilessia in quel paziente e parlavo appunto prima delle tecniche invasive che sono appunto le tecniche di stereo elettroencefalografia stereo EG dove appunto si applicano secondo un ragionamento specifico per quel paziente degli elettrodi intracerebrali che permettono proprio di registrare l'attività quindi anche questo rientra in quella condizione che oggi viene chiamata medicina di precisione cioè la neurochirurgia o meglio la chirurgia dell'epilessia è a tutti gli effetti all'interno della della medicina di precisione esistono quindi tutta una serie di elementi molto utili che permettono anche di predire l'outcome cioè predire la percentuale attraverso cui noi possiamo raggiungere il completo controllo delle crisi e anche di prevedere quelli che possono essere i rischi legati all'intervento quindi questo elemento è fondamentale molto utile nella restituzione al paziente e ai familiari di quello che sarà di quella che è la potenziale efficacia del trattamento chirurgico ovviamente tutto questo non può essere comunicato la settimana prima dell'intervento o il giorno prima ma deve essere comunicato molto molto prima in maniera tale che ci sia un percorso forse quell'1% tiene anche conto del fatto che questi pazienti hanno una vita una curva di esperienza molto lunga prima di arrivare all'intervento quindi tu vedi magari un paziente un anno prima cioè può essere questo il ciclo di vita prima di arrivare o sei mesi prima no 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 assolutamente noi diciamo l'ideale è quello di vederlo in un tempo sufficientemente lungo da permettere di ottenere quella decisione che quando si raccoglie il consenso o si arriva alle parti finali non c'è più quella componente emotiva che porta a perché è tipico cioè quando un paziente va dal medico va incontro una totale inibizione quindi non sa più che domanda fare è confuso e naturalmente se tu hai incontrato quella persona hai una confidenza hai una facilità di comprendere anche perché conosci meglio quella persona allora il percorso è molto più semplice ed è anche più consapevole naturalmente la consapevolezza può essere quella del genitore o del ragazzo naturalmente poi il bambino davanti a una situazione accogliente non potrà che star meglio rispetto a una situazione in cui apprezza e sente che i genitori sono tesi ansiosi tant'è che io incontro quando si tratta di piccolini che comunque già capiscono prima i genitori perché i genitori hanno bisogno di parlare col medico prima di far incontrare questo medico far incontrare il bambino con questo medico questo è sicuramente importante qual è secondo te l'età giusta tu sei anche esperto di un altro tipo di chirurgia che è la chirurgia oncologica qual è secondo te l'età giusta per cominciare da parte del neurochirurgo a relazionarsi con il bambino cioè quando c'è una piena coscienza consapevolezza di voler andare verso una situazione di chirurgia di intervento sì non c'è in realtà un'età nel senso che a noi fa piacere incontrare il bambino per conoscerlo poi ovviamente in base alla situazione che all'atmosfera che respiriamo riusciamo poi a definire il momento in cui si affrontano certe tematiche e se queste tematiche devono essere poi affrontate in assenza o meno del piccolo questo è molto importante quindi non esiste un'età anche perché a noi fa piacere incontrare il bambino sicuramente ci sono casi che quando c'è una grossa farmacoresistenza o le crisi hanno una portata importante in cui è necessario intervenire prima possibile ti dico che comunque ancora il tempo che intercorre tra comparsa delle crisi e chirurgia è ancora molto lungo in genere supera i dieci anni e quindi quando c'è una possibilità da parte della chirurgia di risolvere l'epilessia naturalmente sono dieci anni che noi che i genitori vivono e il bambino vive male perché l'epilessia è ancora una forma che ha dei bias cioè una discriminazione i maestri talvolta hanno paura di avere un bambino per cui al primo elemento lo sport penso esatto tutti questi elementi pesano sulla socializzazione del bambino e sulla vita dei genitori rispetto a dicevamo tu prima sei genitore quindi sai qual è il carico a cui poi si è soggetti quando si va incontro a questo tipo di decisioni se dovessi decidere per tua figlia in Italia sappiamo che non sono molti centri specializzati su chirurgia dell'epilessia ci fai un un escursus su nord centro sud quali sono i centri di riferimento e appunto ai quali tu affideresti una persona cara allora iniziamo dall'ultima parte della tua domanda cioè io affiderei appena in tutto chiederei dei pareri la second opinion è fondamentale non esagererei nelle third e fourth opinions perché possono generare forse sei cosa ne parlavamo proprio questa settimana nel nostro gruppo a proposito del fatto di una famiglia che aveva incontrato un medico che diceva no solo terapia farmacologica un altro medico che diceva no solo terapia chirurgica e forse a volte lì la third opinion è di rimente no fra due opinioni così contrastanti sì sicuramente nella selezione dell'interlocutore farei prima uno studio su quelli che hanno diciamo una loro una reale competenza nel campo proprio per non incorrere magari in quella condizione a cui facevamo riferimento prima in cui il clinico ha un po' di resistenza forse timore verso la chirurgia allora la lice la lega italiana contro l'epilessia ha individuato i centri di terzo livello cioè quelli che svolgono l'attività di selezione chirurgica del paziente e come sempre in Italia c'è uno sbilanciamento verso il nord quindi al momento i centri adesso senza far torto ai centri che non ricordo se poi ci dice anche che è un'informazione pubblica la possiamo anche recuperare è recuperabile sulla sito lice però comunque ci sono i centri il centro più grosso il neguarda di Milano che è quello che è la maggiore tradizione che risale ai tempi di Munari poi c'è l'istituto neurologico Carlo Bessa sempre a Milano che ha una grossa competenza in questo e poi c'è il Gaslini Gianna Gaslini che ha una grossa esperienza questi sono i centri che svolgono la chirurgia dell'epilessia al nord poi c'è io mi riferisco alla parte pediatrica ok il Liguarda e il Besta hanno anche una competenza nell'adulto poi c'è il Meyer di Firenze che è naturalmente l'ospedale pediatrico ha una grossa competenza nella chirurgia dell'epilessia Bologna ha una competenza nella chirurgia dell'epilessia dell'adulto c'è il poi c'è il ovviamente il nostro ospedale l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e c'è il centro Neuromed di Pozzilli che segue i pazienti adulti gli adulti però sì e poi il Santo Bono di Napoli ha iniziato con un percorso di chirurgia dell'epilessia esistono poi altre realtà che hanno una tradizione di chirurgia dell'epilessia che è l'ospedale di Ancona pediatrico di Ancona poi il Salese esattamente la differenza Carlo viene fatta anche sul numero di interventi cioè io che sono un profano un genitore guardo questo elenco sul sito dell'Alice mi immagino che un centro che abbia più esperienza nel tempo abbia avuto più possibilità di sperimentare queste tecniche chirurgiche quindi può essere un criterio questo un po' come il ricercatore l'impacto naturalmente nel momento in cui questo centro si posiziona sul terzo livello è perché ha queste ai numeri e l'esperienza che li rende appunto tali da considerare e da essere considerati come centri di eccellenza al quale si può tranquillamente rivolgere tra l'altro il ruolo della commissione chirurgia è anche quello dell'alice è proprio quello di integrare questi centri affinché ci sia un flusso interno delle conoscenze e delle competenze quindi sicuramente questo non è così tanto rispecchiato nella realtà perché oggi io vedo famiglie che li vedono tutti questi centri prima di decidere quindi non c'è magari una famiglia di Napoli mandata a Milano che poi viene rimandata per essere operata a Napoli no in quel caso viene trattenuta a Milano dal centro io penso che sia molto importante che per un cittadino che ci sia la possibilità di essere seguito nel territorio in cui lui anche secondo me e questo aiuta tanto anche il vissuto cioè nel superare e vivere bene questa esperienza perché comunque si sa con la famiglia ci sono anche una facilità nello spostamento del bambino se deve fare dei controlli o se compaiono delle problematiche per cui io sostengo sempre l'idea che i pazienti siano seguiti nel loro città nel loro territorio esatto un altro elemento forse può essere anche il criterio dell'ospedale pediatrico per il bambino no mi immagino tutto quello che è il follow up successivo la riabilitazione nella gestione del dolore probabilmente un ospedale pediatrico dà la famiglia più garanzie da questo punto di vista la presa in carico totale sicuramente voglio però dire anche che ci sono ospedali chiamati dell'adulto che hanno un grosso gruppo pediatrico e quindi in questo senso pur non avendo la definizione ospedale pediatrico hanno una grossissima esperienza nel pediatrico perché comunque hanno una neuropsichiatria infantile importante hanno una pediatria di valore hanno degli anestesisti che riescono perché per quanto riguarda la parte chirurgica è uno degli elementi di grande supporto e valore nella realizzazione dell'intervento è proprio l'anestesista perché ci sono centri in cui gli anestesisti non gestiscono bambini molto piccoli di età inferiore ai 6 mesi altri centri in cui gli anestesisti con la loro esperienza riescono a farlo quindi se vogliamo il concetto pediatrico non è sufficiente per coprire tutta la garanzia non è che non voglio dire una garanzia ma può porre delle limitazioni nella selezione del bambino del centro senti hai toccato prima un tema che credo sia interessante per i genitori quando parlavi di chirurgia resettiva o disconnettiva in cui per definizione il paziente è seizure free quindi è libero dalle crisi però è accennato al fatto è libero dalle crisi con o senza farmaci quindi è una condizione molto probabile che l'intervento resettivo disconnettivo poi porti a dover usare ancora i farmaci io ho usato questa osservazione molto generica perché esistono tutta una serie di condizioni che più facilmente possono essere risolte escludendo anche il farmaco quindi se entriamo nel merito pur appunto avendo l'obiettivo di avere il paziente libero da crisi noi dobbiamo sempre considerare la possibilità che il farmaco possa non essere sospeso di solito noi prima della una volta che si esegue l'intervento e il paziente non ha crisi non sospendiamo il farmaco immediatamente ci sono situazioni in cui c'è un periodo esatto c'è un periodo che nel gruppo degli adulti se si gestiscono i pazienti adulti a volte ci si spinge intorno agli 1-2 anni nel pediatrico invece quando noi vediamo che il paziente non ha crisi nel periodo post-operatorio si inizia a ridurre il dosaggio quotidiano del farmaco dopo 6 mesi ci sono anche altre situazioni sono quelle riguardanti diciamo il tema stroke o situazioni tale di questo tipo in cui il farmaco può essere sospeso dopo pochi mesi dopo un paio di mesi si può già ridurre però per dare un'idea complessiva si estende in genere 6 mesi per avviare il percorso di riduzione della sospensione del farmaco oltre a queste due casistiche hai parlato anche di terapie palliative che è un nome che un po' spaventa forse perché lo correghiamo ad altri ambiti o da un po' la percezione di può essere un trattamento sì che lo faccio ma che non è che abbia poi tutta questa risoluzione nel caso specifico la domanda dalle nostre famiglie era più relativa al sistema di stimolazione vagale indicato appunto con questo acronimo VNS e ci faceva piacere capire da te uno come mai è così poco noto questo trattamento in Italia mentre su alcune categorie di pazienti o anche all'estero ci sembra una strada un po' più percorribile tra le prime opzioni e due effettivamente quali sono i ragionamenti che vanno fatti per chi è più adatto che garanzie ha poi nel ridurre sempre nel caso dell'epilessia il numero e l'intensità delle crisi sì dunque quando tu mi poni le domande si apre un salone poi se ne apre un altro e un altro ancora vai allora adesso ti lascio rispondere sono domande aperte quindi insomma danno la possibilità di toccare tanti aspetti abbiamo accennato prima al discorso della chirurgia resettiva e disconnettiva due parole per dire in che cosa consistono allora sono entrambe delle procedure che hanno come scopo obiettivo quello di rendere il paziente libero da crisi e non reversibili assolutamente ci so che una volta che tu asporti il tessuto riconosciuto come pilettogeno quindi la chirurgia resettiva o disconnetti quell'area cerebrale allora ovviamente non c'è un ritorno non c'è un passo indietro che invece nella neuromodulazione esiste cioè nella neuromodulazione che si ha di brain stimulation cioè stimolazione cerebrale profonda nel disordine del movimento o stimolazione nervovago vagus nerve stimulation vns è reversibile ma ricordiamo che queste sono le tecniche che permettono di raggiungere l'obiettivo atteso l'obiettivo desiderato che è quello di non avere più crisi naturalmente con un obiettivo di avere un basso impatto di rischio sulla qualità di vita sulla qualità di vita prospettiva di miglioramento senz'altro con tutta una serie di aspetti e un altro un altro spazio gigantesco che si apre con questa tua osservazione è che nei momenti in cui l'epilessia ha un impatto negativo sullo sviluppo neurocognitivo sul neuro sviluppo più in generale tanto prima si interviene nel controllo delle crisi tanto migliore sarà il neuro sviluppo di quel bambino quindi anche i tempi sono importanti per cui l'elemento aiuto asporteranno una parte del cervello aiuto disconnetteranno una parte del cervello fanno la lobotomia va comunque visto nell'ottica di una situazione che ha un basso rischio con un grosso risultato minimamente sono situazioni in cui la percentuale chirurgica di rischio è anche dell'1% quindi estremamente bassa quindi come dicevamo prima la qualità della chirurgia anche grazie alla all'esistenza di centri che fanno quello e quindi sono dedicati a quell'ambito permettono di raggiungere non in maniera aneddotica ma in maniera continuativa costante il risultato probabilmente il termine palliazione è un termine che porta ad antichi fantasmi cioè le cure palliative per me sono le cure in fin di vita no? le cure nel paziente in fin di vita eccetera per cui la parola palliazione ha bisogno di o cambiare o di essere vissuta diversamente o spiegato sì però fa il gioco sempre con palliazione dei vecchi quindi il concetto di palliazione in questo senso significa quello di migliorare la qualità di vita e l'epidessia senza però determinare un completo controllo di questa cioè con la palliazione non si ha la guarigione ma non si ha neanche un peggioramento anzi c'è un miglioramento questo però la chiamiamo sempre cure palliative in Italia e nei paesi europei il percorso chirurgico riferito ai pazienti con epilessia è piuttosto rigoroso nel senso che i pazienti fanno un percorso prechirurgico che li porta poi una volta che il caso viene discusso dal gruppo di lavoro perché ogni caso nel centro di chirurgia di epilessia viene discusso quindi fa il suo percorso e poi tutti gli specialisti si incontrano per definire quello che sarà l'opzione terapeutica migliore o nessuna opzione terapeutica quindi la prima scelta nella chirurgia di epilessia è sempre la chirurgia resettiva o disconnettiva ok nella popolazione pediatrica la chirurgia disconnettiva è più frequente che in quella adulta e si ricorre alla chirurgia disconnettiva quando ci sono ampie aree di tessuto cerebrale coinvolto nell'epilessia quindi lo stimolazione nervovago rappresenta quindi una soluzione che si tiene in esame una volta escluse le altre due ok quindi valuto la resettiva valuto la disconnettiva non ci sono opzioni per quella o magari il paziente non l'accetta può essere c'è anche quell'opzione assolutamente e vado verso la neuromodulazione come funziona questo intervento è anche poco invasivo no? io per quanto riguarda le persone che magari vogliono sottoporre il caso personale o insomma della persona cara a un centro questo centro non deve essere un centro che non fa la chirurgia dell'epilessia deve essere un centro che fa la chirurgia dell'epilessia o che sia un centro di chirurgia dell'epilessia che ha come riferimento quel centro che svolge l'intervento di impianto dello stimolatore vagale quindi non mi affiderei alla qualunque cosa che invece accade può accadere negli Stati Uniti ad esempio o in altre nazioni dove la gestione è più è più indipendente vorrei dire e quindi in quel caso può non essere un neurochirurgo dici? ma l'impianto dello stimolatore nervo vago può essere fatto anche da un chirurgo torino perché comunque chi ha dimestichezza con la regione cervicale perché l'intervento consiste nel posizionare un elettrodo attorno al nervo vago che sta all'interno di un sistema dove ci sono due importanti strutture vascolari la giugulare e la carotide che stanno là per cui però mi sembra un'area delicata su cui intervenire assolutamente ma il chirurgo torino è sufficientemente delicato io parlo proprio dell'indicazione neurologica all'esecuzione dell'intervento quindi questo quindi è una procedura che rientra in un concetto di close loop cioè i sistemi di neuromodulazione possono essere open loop e close loop cioè questa parola open sta indicare che il pacemaker cioè il generatore di impulsi viene programmato secondo precisi valori di durata dell'impulso intensità e frequenza nel caso del vago ciclicamente 30 secondi acceso 5 minuti spento può essere regolato anche dall'esterno assolutamente però pur essendo regolabile dall'esterno telemetricamente quindi si applica una sonda a livello del generatore di impulsi hai un palmarino attraverso cui ti interfacci con il pacemaker questo è l'open loop adesso esistono nei sistemi di neuromodulazione i close loop cioè dei sistemi che fanno riferimento a dei biomarker cioè a fenomeni fisiologici che permettono di pridire la comparsa della crisi ad esempio sapete che quando c'è una crisi epilettica c'è l'aura cioè l'aura è quella sensazione soggettiva che la crisi sta per arrivare c'è solo chi ce l'ha riesce a trasmetterlo con i biomarkers invece ci sono gli elementi fisiologici che sono in grado di di prevedere ad esempio accelerazione del battito sudorazione che è proprio il sistema che la vNS sta utilizzando cioè ha un pacemaker un sistema che riesce a monitorare la variazione della frequenza cardiaca perché si è visto che in certi tipi di crisi c'è un aumento della frequenza quindi in questo senso il sistema attraverso questo segnale che precede l'insorcienza della crisi si attiva e quindi in questo modo potrebbe inibire la comparsa delle crisi o potrebbe rendere la crisi meno intensa un tempo nei sistemi open del vago esisteva il magnete quindi il paziente aveva un braccialetto aveva questo magnete a disposizione che veniva fatto strisciare sopra la pelle sopra lo stimolatore sulla pelle e in questo modo il sistema poteva attivarsi adesso con questi sistemi riusciamo a attivarlo senza che ci sia la necessità di utilizzare appunto il magnete senti tu hai usato spesso il condizionale potrebbe fare questo potrebbe interrompere la crisi ma potrebbe anche no quindi in quali casi è efficace questo sistema di neurovalutazione di neuromodulazione con il VNS allora sono stati continuo a usare il condizionale sono stati prodotti che hanno realizzato tantissimi studi sull'efficacia dello stimolatore nervo vago e non essendo ancora individuata chiaramente quella categoria di pazienti che ha un beneficio certo dallo stimolatore nervo vago cioè è stato riconosciuto come sistema potenzialmente efficace che è in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti trattati ma non si è ancora indicato diciamo individuato l'elemento che è un elemento molto importante è che lo stimolatore nervo vago sarebbe più efficace nella popolazione pediatrica rispetto alla popolazione dell'adulto sono gli studi multicentrici che hanno evidenziato appunto nella popolazione pediatrica una buona efficacia ma continuo a dire che nel momento in cui esiste una chiara prospettiva terapeutica delle cure non palliative quindi mi riferisco alla chirurgia presettiva o disconnettiva allora quella è la strada da percorrere perché davanti a una soluzione in cui la possibilità di avere questo risultato cioè di completo controllo delle crisi è di un certo valore sicuramente nonostante ci sia la paura la preoccupazione per deve essere seriamente tenuta in considerazione e la scelta dello stimolatore nervo vago deve essere quindi perché dicevi ci sono genitori che non hanno non se la sentono di affrontare questo percorso però è anche vero che è necessario sapere che lo stimolatore funziona ma non quanto potrebbe funzionare un intervento chirurgico non vorrei che appunto i dati che abbiamo che funziona di più sul bambino e non sull'adulto siano poi diciamo biasati da questo fatto che comunque il paziente che fa questo tipo di interventi forse è più è più bambini ci sono più bambini o no tieni conto che comunque il diciamo i gruppi di lavoro che l'hanno proposto sono comunque gruppi che hanno una competenza di chirurgia dell'epilessia per cui credo che sicuramente ci sarà qualche paziente che avrebbe beneficiato della chirurgia resettiva e disconnettiva però non considererei questo aspetto come da tenere presente nella valutazione della valutazione del lavoro senti un'altra area della quale appunto vi occupate nel tuo reparto è anche quella dei disturbi del movimento che è un'area che di nuovo spesso interessa le famiglie dei bambini con paralisi cerebrale mi riferisco in particolare alla distonia qui anche ci sono una serie di sigle di strumenti di tecnologie sulle quali però facciamo spesso confusione quindi ti chiederei di fare un po' di chiarezza anche su quello che è questa deep brain stimulation su quella che è invece la stimolazione magnetica ci sono delle aree che si sovrappongono che non so se si sovrappongono come parole o come immaginario poi del trattamento quindi dici tu qual è oggi il modo migliore per trattare la distonia e poi che altri sistemi esistono in termini appunto di riabilitazione forse allora io il tema della distonia è un tema a me molto caro è una patologia che conosco e che seguo da tanto tempo dal 2000 quindi sono 24 anni che seguo la di brain stimulation e la distonia l'ho seguita a Milano per undici anni col gruppo del dottor Nardoci e Giovanna Zorzi adesso con diciamo la il bambino Gesù prima col professor Vigevano adesso col dottor Specchio e il dottor Garone che si occupa attivamente di questo diciamo anche qualche numero Carlo sulla distonia forse non è così frequente nei nostri bambini con parese cerebrale non riguarda maggior parte mentre non so la spasticità è una caratteristica più frequente più ricorrente nei nostri la distonia decisamente la componente la spasticità è un elemento che si osserva più frequentemente o meglio sono bambini con i bambini che hanno distonia nelle forme secondarie cioè sono conseguenti a una sofferenza ad esempio per i natali hanno una spasticità quindi spasticità e distonia in cui esistono e se il tema di brain stimulation è molto facile o meglio è più facile da affrontare nei pazienti con forme di distonia primaria cioè quelle forme di distonia che hanno un substrato eziopatogenetico spesso di tipo genetico quindi la distonia di YT1 positiva la NIAO1 cioè ci sono tonassie di condizioni genetiche che oggi sono state individuate come responsive alla di brain stimulation la di brain stimulation stimolazione che è il target che è il target bilaterale quindi sia a destra che a sinistra e poi si collega con un generatore di impulsi questo generatore di impulsi a differenza dello stimolatore nervovago è ricaricabile quindi sono dei sistemi che non devono essere sostituiti quindi due elettrodi vanno inseriti nel cranio e lo stimolatore invece viene connesso agli elettrodi e posizionato diciamo o in sede sottoclaveare oppure in sede periombilicale questo dipende un po' dall'età del bambino dalle condizioni in cui il paziente più in generale è un intervento complicato capisco io da fuori come per un chirurgo è un intervento è un intervento in cui è fondamentale è la precisione nel senso che se confrontiamo l'intervento chirurgico di disconnessione o di resezione ci vuole un'abilità manuale del chirurgo importante cioè un'esperienza oculomotoria di un certo valore invece nelle procedure di neuromodulazione ci vuole una competenza cognitiva esclusivamente prevalentemente intellettuale del chirurgo proprio perché l'intervento viene fatto senza esporre il cervello quindi attraverso dei forellini che si fanno sulla testa si raggiunge questa zona e quindi bisogna avere una competenza anatomica radiologica e anche neurofisiologica perché quando si posizionano gli elettrodi è importante conoscere il linguaggio di quella regione cioè ogni nucleo ha il suo linguaggio e naturalmente quindi il supporto di neurofisiologo in sala operatoria è molto importante ma non solo per questo ma anche per permettere a chi impianta l'elettrodo di evitare in corso di stimolazione gli effetti collaterali cioè nel momento in cui c'è una stimolazione questa stimolazione interessa non solo il nucleo di interesse ma anche le strutture attorno che hanno una funzione e da questa stimolazione possono essere in qualche modo attivati possono in qualche modo ridurre l'efficacia ad esempio per il pallidio interno noi posizioniamo l'elettrodo molto vicino alla zona del movimento si chiama capsula interna per cui se sono molto vicini e stimolano la corrente richiesta possa avere un effetto capsulare cioè una contrazione della mano che è un elemento negativo quindi ritornando al concetto di conoscenza quindi al componente intellettuale molto importante nella gestione dell'intervento ci sono tutta una serie di elementi che devono essere condotti quindi un intervento lungo che richiede proprio la corretta il corretto posizionamento dell'elettrodo in quella specifica regione per raggiungere l'obiettivo migliore quindi questa procedura è una procedura che si svolge in una giornata sono interventi lunghi perché richiedono tempo per questo motivo ma che insomma sono ben tollerati dal paziente e per quanto riguarda l'indicazione nei pazienti con distonia secondaria quindi dove la componente spasticità è associata alla distonia qui i risultati non sono così brillanti riguardo a quello che si osserva negli altri casi nei casi genetici nei casi di distonia primaria in genere perché ci sono anche delle forme che hanno un fenotipo cioè una manifestazione di sintomi in pazienti che non hanno una distonia secondaria ad esempio da sofferenza ma non hanno neanche una positività alla genetica e quindi sono chiamate genericamente primarie idiopatiche cioè non si sa quale sia la causa ma comunque primarie quindi è molto importante nella selezione la selezione del paziente e in generale le distonie in cui qui entro un po' nel dettaglio la componente fissa cioè quando il movimento della distonia è caratterizzata da una postura fissa distonica in questo caso la D-brain stimulation non è particolarmente efficace quindi la valutazione quindi l'esperienza del clinico e qui mi riferisco al neurologo nella conoscenza del pattern distonico ci sono poi tutta una serie di studi neurofisiologici che noi conduciamo quelli di predire l'efficacia della stimolazione quindi ci sono anche degli elementi di registrazione come i potenziali evocati di somatosensorale e motori che permettono di le pazienti con distonia secondaria di predire l'outcome cioè capire come può essere il risultato dell'intervento e anche qui come per la chirurgia dell'epidessia vale il concetto di farmaci no farmaci cioè l'intervento è un intervento di successo anche se il paziente deve continuare a prendere dei farmaci allora nelle forme ci sono alcune forme in cui il farmaco può essere anche sospeso quindi come per l'epidessia per cui il paziente sta meglio anzi alcuni farmaci sono anche anoressizzanti per cui il ragazzo diventa proprio cicciottino proprio perché ha la sua normale diciamo costituzione sviluppo sì sì in generale uno degli elementi che possono portare all'indicazione sono l'inefficacia della terapia o la possibilità di avere degli effetti collaterali da questa quindi ci sono situazioni che i farmaci possono causare quindi in questo caso riducendo il dosaggio può comparire può essere più intensa la distonia quindi non si parla tanto di farmacoresistenza ma anche di effetti collaterali dati da la farmaco sì esattamente senti io in questi casi vai vai finisci finisci no 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 finisci pure ascolto no no dico in questi casi quindi l'indicazione alla distonia in pazienti che poi possono essere trattati un elemento molto importante è che la distonia comunque è una condizione che non deve essere allora da quando lavoro qui al Bamin Gesù ho notato che i casi di distonia sono molto più alti di quanto non immaginassi proprio perché c'è tutto il mondo delle distonia secondarie che porta proprio a una da un punto di vista epidemiologico a una rivalutazione dell'importanza della della distonia forse ci sono pochi esperti a livello nazionale quindi magari si concentrano su un paio di poli no perché il motivo mi sembra abbastanza semplice cioè che noi abbiamo una grossa neuro-reabilitazione per cui arrivano tanti bambini da tutta Italia veramente soprattutto dal centro-sud e quindi un po' un luogo in cui si concentrano questi pazienti senti alcuni genitori nel preparare domande a questo a questo capitolo a questa conversazione con te ci hanno parlato di questo trattamento TMS di questa stimolazione magnetica transcranica è qualcosa che interviene nell'area dei disturbi del movimento è qualcosa che non c'entra niente quindi viene utilizzato ce ne parli un po'? Allora io non ho una grande esperienza nella stimolazione magnetica transcranica che forse è più area riabilitazione mi viene da dire no? Allora questo tipo di i centri che si occupano di disturbare il movimento non utilizzano frequentemente questo tipo di trattamento questo trattamento vedo che oggi come anche la stimolazione elettrica diretta viene utilizzata più nelle in forme psichiatriche o comunque con una componente psicologica importante ad esempio nell'anoressia un tempo la TMS veniva utilizzata nella trattamento dell'epilessia soprattutto delle displasie però io non ho una grande esperienza e non credo che esista una grossa esperienza a livello nazionale su questo tipo di trattamento quindi non vi so dire purtroppo tantissimo va bene comunque sappiamo che è un'altra area di competenze senti io toccherei due ultimi capitoli anche questi abbastanza larghi come al solito però cerchiamo di concentrarli un caso frequente ricorrente sui neonati quindi parliamo anche qui di lesioni per i natali è il bambino con idrocefalo e che quindi sul quale viene impiantata questa DVP questa derivazione ventricolo peritoneale ecco dici qualcosa di questo caso qui perché questo caso può essere un bambino il caso di un bambino alla nascita ma può anche essere un caso un esito di un intervento di chirurgia dell'epilessia allora il riscontro di idrocefalo in bambini con sofferenza prinatale è il bambino più tipico che viene sottoposto a questo tipo di intervento è un bimbo prematuro con emorragie intraventricolari perché sappiamo che a livello delle strutture che stanno attorno al ventricolo c'è una componente vascolare ancora residua nei prematuri che può sanguinare e determinando quindi queste emorragie intraventricolari che determinano l'idrocefalo e l'idrocefalo vuol dire aumenta la pressione dentro i cranio spiega l'idrocefalo allora all'interno del cranio sappiamo che c'è il cervello il talencefalo all'interno di questo ci sono delle cavità che si chiamano ventricoli questi ventricoli contengono questo materiale liquido che si chiama licor liquido cefalo rachidiano che viene prodotto da strutture vascolari si chiamano plessicori dei ogni giorno nell'adulto sono circa 250 i cc che produciamo quindi è una sorta di sorgente dove ci sono dei fiumi dei laghi dentro cui questi liquidi scorrono nel momento in cui c'è un sanguinamento questo sanguinamento determina un ostacolo a questo normale flusso e quindi questo liquido normalmente pronto ristagna determinando una dilatazione dei ventricoli ovviamente nei bambini nei neonati che hanno la fontanella hanno delle strutture non saldate questa situazione determina un'alterazione della fontanella e un aumento della circonferenza cranica ovviamente che il compenso arriva fino a un certo punto tanto da poi determinare un aumento come appunto dicevi della pressione intracranica e quindi una riduzione del flusso anche dei vasi come l'arteria pericallosa all'interno vicino ai ventricoli quindi in questi casi è necessario posizionare un cateterino un catetere ventricolare che quando sono ancora molto piccoli non può essere trasformato in derivazione ventricolo-peritoneale perché se vuoi le dimensioni del piccolino a volte sono neonati di 500 grammi 800 grammi quindi estremamente piccoli fragili quindi in questi casi si procede col posizionamento di quando è possibile posizionarlo a volte si eseguono delle punture lombari per ridurre la quantità di liquor senza arrivare in mente ma quando è possibile si posiziona un catetrino con una camerula che può essere punta percutanea a livello percutaneo si può fare una puntura percutanea che permette quindi di svuotare la quota del liquido quando è possibile drenarlo esattamente quando il bambino ha raggiunto la maturità la competenza dell'addome che è capace di assorbire col suo peritoneo questo liquido allora si posiziona la derivazione ventricolo-peritoneale c'è anche la possibilità bambini che hanno che sono più grandi ma non hanno un peritoneo competente cioè in grado di assorbire questo liquido di posizionare il catetere in serie atreale quindi una vena una vena giugolare un ramo della giugolare per appunto essere drenato direttamente nel circolo e quindi permettere il drenaggio della riduzione delle dimensioni dei ventricoli solitamente esistono noi impiantiamo delle valvole programmabili cioè questi cateteri sono collegati a un sistema che permette di regolare il flusso del liquor dalla testa all'addome e quindi evitare passaggio contrario e di regolare anche la pressione attraverso la quale il liquido può essere drenato quindi una sorta di stop che permette al ventricolo di svuotarsi ma non eccessivamente e questo come per lo stimolatore può essere fatto telemetricamente quindi sono dei sistemi che si appoggiano sulla valvola e possono regolarla quindi in questo modo noi riusciamo a controllare le dimensioni dei ventricoli con queste derivazioni e quindi permettere al bambino un normale sviluppo cioè la derivazione ventricolo-peritoneale è compatibile con qualsiasi attività sportiva o altro ed è un diciamo un'installazione che poi rimane nel corpo a vita o a un certo punto si può decidere di rimuovere solitamente quando solitamente i pazienti che hanno la derivazione ventricolo-peritoneale la terrano per sempre ci sono però dei rari casi in cui è possibile considerare l'opzione che tu hai suggerito cioè quella di un giorno rimuoverla per fare questo si regola la valvola si aumenta pian piano la regolazione perché dreni sempre meno e quindi in questo modo noi possiamo monitorare il paziente nel tempo fino a poi fare una seconda fase di chiusura del tubicino e vedere come sta il paziente se il paziente sta bene si può spiantare una cosa importante è che il bimbo cresce quindi la lunghezza e quindi a un certo punto arriverà il momento in cui il cateterino andrà si dice allungato perché altrimenti non riesce più a raggiungere il cateterino in genere questo viene fatto intorno agli otto anni di vita ed è un intervento semplice dove la valvola cioè il tubicino che va alla valvola viene sostituito perché poi si ha più lungo questa data ci sono dei casi scusami di malfunzionamento di queste valvole e qualcosa per cui il genitore da fuori se ne può accorgere c'è una sintomatologia particolare tutti i sistemi impiantabili dal vago alla DBS alla derivazione ventricolo-peritoneale possono essere malfunzionanti quindi hardware related complications complicazioni legate al malfunzionamento dell'hardware quindi è vero ci può essere un malfunzionamento di solito tanto più tempo passa dall'intervento tanto minori sono le possibilità che ci sia un malfunzionamento però non si può mai escludere questo solitamente un malfunzionamento consiste si traduce nella comparsa dell'idrocefalo per la derivazione ventricolo-peritoneale per cui il ragazzo può essere rallentato il bambino rallentato soporoso mal di testa mal di testa vomito si può fare tutti questi sintomi si possono fare comunque delle valutazioni per esempio oculistica per vedere se ci sono delle alterazioni del fondo oculare che ti dicono se è aumentata la pressione intracranica ci sono anche situazioni in cui la derivazione ventricolo-peritoneale può essere questo soprattutto all'inizio sostituita da una procedura endoscopica cioè di terzo ventricolo-cisternostomia cioè nei casi in cui il bambino è più grande e c'è la possibilità di una maggiore efficacia di questo intervento allora si può procedere a questa procedura in che cosa consiste allora noi sappiamo che i ventricoli sono tra loro in comunicazione cioè abbiamo i due grossi ventricoli laterali che poi convergono su una struttura centrale che si chiama terzo ventricolo e che poi attraverso un tubicino si chiama acquedotto di silvio comunicano con un quarto ventricolo poi questo da qui raggiunge altre strutture e ritorna nelle vene dove viene riassorbito nel momento in cui ad esempio abbiamo uno stop nella comunicazione tra il terzo ventricolo e il quarto ventricolo allora è possibile con l'endoscopio nella parte anteriore del terzo ventricolo aprire una piccola finestra che permette di bypassare questo ostacolo attraverso appunto l'apertura di questo nuovo di questa nuova stomia e quindi in questo caso si ripristina il normale flusso di corale e in questi casi la derivazione può non essere più necessaria e quindi in questa situazione ovviamente non avremo l'hardware related complication perché abbiamo un sistema che si preferisce farlo intorno all'anno o due anni di vita perché quando si è molto piccoli c'è la possibilità che questa ostomia si chiuda naturalmente e quindi bisogna offrire le maggiori chance opportunità di successo attraverso questa soluzione In ogni caso tutti gli interventi cioè per tutti gli interventi di cui abbiamo parlato finora valgono le raccomandazioni dei centri di terzo livello di cui dicevamo prima all'inizio sono gli stessi centri che abbiamo menzionato per la chirurgia delle piessie che comunque hanno esperienza e una competenza giusta anche per questo tipo di trattamenti è così? Esattamente anche perché mi riferisco a un bambino con una spasticità eseguito dai riabilitatori e quindi loro stessi sono in grado di percepire e prevedere eventuali sintomi premonitori per cui un centro con queste competenze è in grado anche di intercettare condizioni che magari altrove possono essere non dico sottovalutate ma proprio non viste perché il paziente non segue quel percorso e quindi le opportunità di incontro sono minori vero hai toccato il tema della spasticità per cui direi che come ultimo capitolo ad affrontare c'è questo della rizzotomia dorsale selettiva che è un tipo di intervento che non so se sei un frequentatore dei social media però ha questi fan ha questi gruppi di famiglie e genitori che fino a poco tempo fa si spostavano negli Stati Uniti per eseguire questo tipo di intervento di rimozione della spasticità e che invece adesso mi sembra di capire che trovino una risposta anche in Italia quindi anche qui è un intervento la prima domanda è un intervento che viene effettuato dal neurochirurgo o dal chirurgo ortopedico? è un intervento che credo che debba essere eseguito dal neurochirurgo perché la sede in cui si svolge l'intervento è composta dal tessuto nervoso per cui l'SDR la risottomia dorsale selettiva deve essere diciamo svolta al neurochirurgo non solo al neurochirurgo ma da un gruppo in cui esiste anche un neurofisiologo competente che insieme al neurochirurgo decide quelle che sono quella che è l'entità della sezione della radice dorsale cioè della radice sensitiva questa condizione l'abbiamo riconosciuta sette anni fa cioè del fatto che in Italia non ci fosse una sede che svolgesse questa procedura per cui abbiamo selezionato col dottor Castelli dei chirurghi e fisiatri che potessero condurre questa esperienza e gestire questa attività tant'è che adesso noi da ormai sei anni svolgiamo appunto gli interventi di SDR è una procedura che è molto efficace nei casi di spasticità e anche qui non reversiva io torno sempre su questo punto Carlo perché mi sembra sempre un tema importante per il genitore sapere che mi immagino soprattutto nella prospettiva di un intervento del genere in cui c'è il cammino il cammino autonomo il movimento sapere che poi se invece l'intervento non va bene non posso fare molto altro sì il punto è che i genitori che affrontano questo percorso come giustamente hai evidenziato hanno molta paura ma per nostra esperienza una volta che si supera questa fase del timore perché siamo consapevoli del fatto che i genitori affidino al chirurgo ciò che di più prezioso hanno nella loro vita sono comunque i genitori che sono molto soddisfatti contenti di quello che è stato il risultato anche perché le complicanze legate a questa procedura sono prossime allo zero e quindi la sento io che qualche genitore magari ha timore nel fatto che andando a togliere la spasticità poi in realtà l'esito finale che uno vuole vedere quindi il bambino che si è in piedi in maniera autonoma non viene raggiunto quindi dici questa non è una conseguenza di questo intervento no questa la vedo più la vedo più in soluzioni ortopediche non coerenti con la bio con la cinematica del paziente per cui magari arrivano a sezioni del tenere d'achille piuttosto che che fanno venire meno quello che è il supporto della spasticità nella conduzione della diambulazione in questo caso invece c'è tutto uno studio precedente che permette di selezionare il bambino e quindi renderlo candidabile a questo quindi ci sono anche situazioni che simulano quella che è la la possibile risposta del trattamento naturalmente qui davanti abbiamo anche due opzioni cioè abbiamo l'SDR e l'impianto della popalbaclofen che sono lo stesso due possibilità ora se l'SDR popalbaclofen è l'impianto che fa sempre il neurochirurgo? allora nel nostro caso sì non è a volte diciamo è il terreno di confine nel senso che nel momento in cui hai a che fare con la spasticità che è colui che si occupa dell'SDR nel neurochirurgo allora per avere una competenza del gruppo credo che l'interlocutore debba essere sempre lo stesso nel momento in cui avessimo una situazione dove la prospettiva ortopedica allora che noi ad esempio abbiamo lavorato con con gli ortopedici che impiantavano egregiamente la pompa al baclofen quindi se la pompa al baclofen per esperienza può essere impiantata anche dall'ortopedico l'SDR a mio parere deve essere condotta da un neurochirurgo poi ovviamente questo è il mio punto di vista dicevo che per quanto riguarda la pompa al baclofen se questa è indicata più in bambini che hanno una gross motor che è una scala di valutazione di 5-4 quindi che sono bambini che stanno in carrozzina invece nell'SDR per sottolineare l'efficacia la potenzialità di questo trattamento viene eseguita su bambini diambulanti proprio perché c'è questa prospettiva importante quindi il candidato diciamo più elegibile è un bambino di plegico un bambino appunto facendo riferimento alla gross motor di plegico di ambulante sì con delle difficoltà legate alla sua sotticità ma che con la riduzione di questa può migliorare la qualità del suo cammino la rimozione della spasticità invece negli arti superiori può essere anche questo oggetto della SDR ti sembra un trattamento indicato per appunto solo alcuni distretti no allora ci sono una serie di condizioni abbastanza complesse ad esempio c'è capitato di trattare ragazzi con tetraplegia una componente distonica tra l'altro in questi casi anche la scelta del trattamento va condivisa con persone che fanno parte di un comitato etico c'è anche l'indicazione quindi nel gruppo bisogna dotarsi anche di persone che hanno una competenza culturale filosofica etica in senso più ampio nella gestione per cui questo è molto importante questo tra l'altro un elemento che aiuta anche i genitori nel percorso di decisione perché ci sono i grandi saggi che ti aiutano in questo e in questi casi il posizionamento di un catetrino in una posizione un po' più alta del solito permette di controllare o migliorare il quadro di spasticità ai quattro arti tetraparesi spastica e anche di istonia per cui l'SDR non si utilizza per la tetraplegia per la tetraparesi spastica ma si usa per la diplegia quindi arti inferiori anche perché il target sono le radici lombari dalle 2 S1 quindi la parte comunque più più bassa solitamente Carlo c'è stato ci hai dedicato tantissimo tempo perché siamo stati più di un'ora e mezza collegati prima di chiudere salutare tutti è passata velocemente no sono contenta almeno prima di chiudere volevo chiederti cos'è che ti auguri tu nel futuro quindi dove va l'innovazione la ricerca nell'ambito della neurochirurgia in queste aree che dicevamo prima ti auguri che quell'1% sia un indicatore che aumenti di pazienti che ricorrono alla chirurgia dell'epilessia o ti auguri che funzionino meglio questi device o che altro con questa domanda mi porti più che in un salone nello spazio appunto però dico facciamo sognare apriamo questa prospettiva che è una prospettiva di speranza allora ritornando alla mia esperienza cioè il vecchio chirurgo che mi ha iniziato la neurochirurgia mi disse che la neurochirurgia in tante patologie sarà sempre meno centrale quindi l'obiettivo credo di tutti compresi noi neurochirurghi è quello di individuare procedure che siano sempre meno invasive o che lasciano spazio a procedure non chirurgiche questo è quello ma bellissimo come prospettiva quello che diciamo ci si pone perché in certi casi è accaduto quindi non possiamo escludere anzi possiamo augurarci che questo succeda anche in altri ambiti per quanto riguarda però il presente ora dobbiamo ragionare su quello lavorare secondo questa visione appena anticipata ma sostenere quelle che sono le opzioni terapeutiche migliori e naturalmente nutrirle attraverso sistemi di visualizzazione piuttosto che di tecnologie e competenze che ci possono permettere di arrivare a questo obiettivo quindi la chirurgia ancora oggi è un trattamento efficace nella cura di queste patologie dovremmo fare in modo che la possibilità che queste tecniche siano più efficaci possibile e che siano causa in percentuale sempre minore di effetti collaterali affinché il rischio del paziente sia sempre più basso questo insomma quindi interventi meno invasivi meno invasivi ben calibrati condotti da personale esperto mi sembra un bellissimo modo per lasciarci io ti ringrazio Carlo di questa disponibilità poi avevamo molte domande anche molto specifiche per cui se sei d'accordo poi io rimando anche al al contatto diretto con te per ogni caso un po' più specifico volentieri Francesca ringrazio tutti i partecipanti grazie buona giornata ciao ciao